Hit the road, yeah! Don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road, yeah! Night Shuttle è l'inedito servizio di navette che ti porta direttamente da casa fino al tuo locale preferito e lo fa per tutta la città Un servizio attivo dalle 18.30 fino a notte fonda, basta tesserarsi Tutta mia la città Un deserto che conosco Tutta mia la città Questa notte un uomo piangerà Night Shuttle l'hai inventato tu, di che cosa si tratta? E' un servizio rivolto ai ragazzi che vivono la notte soprattutto Il servizio consiste nel andare a prendere appunto questi ragazzi sin sotto casa Li accompagniamo nel loro locale preferito a ballare o a mangiare dove vogliono E li riaccompagniamo a casa Quindi ricapitolando bisogna tesserarsi Sì, assolutamente tesserarsi Al momento siamo in promozione La quota associativa annuale costa 10 euro Ma a fronte di questa quota associativa diamo 10 euro di credito Quindi è come se la quota non viene pagata ma viene omaggiata appunto in corse Oltre che a fare la città di Palermo riusciamo a gestire anche i paesini vicini al momento Come Isola, Carini, Capaci, Misilmeri, Villabate, Bagheria E speriamo di poterle appunto portare questa iniziativa e questo progetto anche fuori dalla città di Palermo Ho chiuso oggi una convenzione con federalbergatori che racchiudono 30 alberghi Quindi abbiamo la possibilità appunto pure di fare uscire tutti i turisti che scendono a Palermo Fare vivere la città in maniera totalmente differente A proposito, i ragazzi come hanno reagito a questa iniziativa? Ne abbiamo iniziato venerdì 18, oggi siamo quasi 200 già iscritti in meno di una settimana Questo sicuramente è un ottimo segno, mi auguro che diventino sempre di più Salvo, tu invece com'hai conosciuto questo servizio? Tramite il magazine Balarm sono venuto a conoscenza appunto di questo servizio E di conseguenza mi è sembrato molto interessante, utile, pratico e comodo principalmente Lo usi? Sì, già mi sono tesserato e secondo me non c'è cosa più bella di bere in tranquillità Sì, già mi sono tornato a conoscenza appunto di questo servizio